Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma Ha diverso tempo ma, nonostante ciò, lo scambio acceso di opinioni tra loro sembra destinato a non placarsi, al momento, infatti, i due continuano ad accusarsi reciprocamente sui sociali Selvaggia, secondo quanto affermato da Chiofalo in una recente storie su Instagram, lo avrebbe lasciato perché intenzionata a tornare con il suo ex, è questa la versione dei fatti data poche ore fa da Francesco Quando lei negli studi di uomini e donne lo accusava di non essere stato in grado di dimostrarle il suo amore, in realtà, avrebbe solo recitato una parte, Francesco Chiofalo e le foto incriminate, chiudi la bocca e di la verità a scatenare l'ira di Francesco sarebbero state alcune immagini postate sui social sia da Selvaggia, che dal suo ex I due, come sottolinea Chiofalo, avrebbero scattato le foto incriminate negli stessi posti e, presumibilmente, anche negli stessi giorni Mi hai lasciato facendomi fare la figura dello zerbino davanti a tutta Italia, scrive l'ex fidanzato di Temptation Island mentre in realtà te la facedi con il tuo ex Nei video postati, inoltre, Francesco non risparmia parole forti né nei confronti di Selvaggia né nei confronti di quello che, secondo lui, sarebbe il suo attuale fidanzato Chiofalo, senza filtri, dice la sua e si difende dalle accuse che allo stesso sarebbero state rivolte nei giorni precedenti La risposta di Selvaggia, caro Pulcinella sai benissimo i veri motivi della nostra rottura La risposta di Selvaggia a Roma alle accuse mosse da Francesco, tuttavia, non è tardata ad arrivare Proprio mentre lui sui social prendeva di mira lei, le ex compagne di Chiofalo ha provato a dare la sua versione dei fatti La stessa, però, non ha risposto singolarmente a tutte le insinuazioni mosse nei suoi confronti ma, al contrario, si è limitata a commentare solo il comportamento di Francesco Sai benissimo i veri motivi della nostra rottura scrive su Instagram lei e se ci tieni tanto li renderò pubbliche Selvaggia poi nella sua ultima stories, riferendosi chiaramente a Francesco, aggiunge, gli adulti, solo per il piacere di prendere follower Grazie